Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuto Walter Veltroni, scrittore e fondatore del Partito Democratico, buonasera Chiara Geloni, direttrice del sito di Articolo 1, il Partito di Bersani, buonasera Stefano Feltri, direttore di Domani e buonasera Luisa Venneri, coordinatrice del Dipartimento Emergenza Urgenza dell'ospedale Santi Paolo e Carlo di Milano. Allora avete sentito, oggi nuovo record di contagi, oltre 31 mila e con il drammatico peggioramento della situazione sanitaria in tutta Italia, il governo è chiamato a prendere altre nuove decisioni difficili e in tempi anche molto rapidi, ma Conte ne avrà la forza politica? Subito dopo la pubblicità. Dottoressa Venneri, inserata all'Istituto Superiore della Sanità, ha detto che la situazione sanitaria è sull'orlo del collasso. Lei è in Lombardia, Milano, quindi regione e città più colpite dal coronavirus e da questa seconda ondata. Riuscite a curare tutti quelli che si presentano nelle vostre urgenze? Direi per fortuna adesso sì, nel senso che i pazienti che arrivano, arrivano con dei codici di priorità, come viene fatto generalmente in pronto soccorso, in triage, diamo dei codici di priorità, non tutti i pazienti che arrivano hanno un livello di gravità importante, per cui per adesso riusciamo ancora a curare tutti. Ci si prodiga, si fa fatica, si corre molto, si ha sempre il timore di non farcela, per fortuna fino adesso siamo riusciti. Certo è che se questa ondata non inizia un po' a rallentare, il nostro grosso timore è quello di arrivare a un certo punto e non riuscire più a farcela. E quindi a quel punto non potrete più accogliere tutti quelli che hanno bisogno? Beh, diventa difficile direi non accogliere chi ha bisogno. Dovrete scegliere tra chi curare e chi no. Io spero di non doverci mai arrivare a scegliere, fino adesso ce l'abbiamo sempre fatta, a curare tutti quelli che era possibile curare. Scegliere non è mai facile, non è una peculiarità che di solito ci appartiene. Certo, ma qual è la differenza rispetto al marzo scorso? Lei allora aveva detto che era come un Vietnam. Sì, in effetti è vero, ma da questo punto di vista non è cambiato, nel senso che i pazienti che arrivano sono molti, forse di più di quelli che arrivavano a marzo, perché a marzo si tendeva a dire alle persone di stare a casa e le persone ascoltavano molto di più. Ora, dopo tutta l'informazione che è stata fatta durante questi mesi di tregua, la gente ha più paura e quindi viene molto di più in pronto soccorso. Per cui nei pronto soccorsi, nei reparti, tendiamo a dover accogliere molte più persone rispetto al mese di marzo. Questo è un po' la mia opinione, ma quello che vedo in tutti e due i pronto soccorsi e nei reparti che gestisco. Ma ci vorrebbe subito un lockdown, secondo lei? Questo è un parere molto personale, forse non a livello nazionale, a livello della città di Milano per un periodo male non farebbe probabilmente, anche forse addirittura in tutta la Lombardia. È impopolare, però forse rallenterebbe un pochettino questa ondata. Dottoressa Venneri, grazie per la sua testimonianza e naturalmente buon lavoro. Walter Veltroni, diciamo che le notizie che arrivano oggi sono molto peggio di quelle di ieri e sono più preoccupanti di quelle di ieri. Che cosa stiamo aspettando per fare un altro lockdown? Visto che le strutture sanitarie sono sull'orlo del collasso. Oggi abbiamo più di 31 mila contagi. Tutti nelle varie regioni dicono che le situazioni locali stanno peggiorando. Cosa stiamo aspettando? Si sta verificando quella crescita esponenziale della quale aveva parlato, credo, proprio da lei in una delle trasmissioni Paolo Giordano e di cui hanno parlato le università del Politecnico di Milano e di Pavia recentemente. Il rischio è di arrivare a metà novembre con 500 morti al giorno, con 5.000 casi da terapia intensiva, in una situazione che veramente può sfuggire al controllo. E quindi bisogna decidere, bisogna prendere una decisione sulla base di un parere univoco della comunità scientifica perché è la comunità scientifica a dover dire quali sono gli strumenti fondamentali attraverso i quali si può fermare questa pandemia e dopodiché al Governo spetta naturalmente il compito di armonizzare il parere della comunità scientifica con le esigenze drammatiche di carattere sociale che in questo momento attraversano la società italiana e che non possono essere ignorate. Quello che è certo è che se bisogna prendere una decisione più presto la si prende e più presto se ne vedono gli effetti. Ritardare se la decisione deve essere presa se questa sarà l'opinione, ritardare significa ritardarne gli effetti e avere come oggi, non dimentichiamolo 200 italiani che sono morti per questa malattia. Anche oggi. Stefano Feltri, tu hai scritto che il lockdown è una tragedia inevitabile ma che non può essere conto a gestire questa nuova fase di emergenza. Perché? E dove vede un'alternativa? Ma io credo che ci sia un problema che accennava prima anche la dottoressa, cioè le persone hanno fatto quello che gli è stato detto, poi hanno ricevuto messaggi molto diversi e adesso si torna a riavvolgere il nastro si dice abbiamo scherzato, dovete tornare a stare tutti in casa anche se vi avevamo detto che andava tutto bene. Io non ne faccio una questione personale, bisogna cambiare drasticamente l'approccio. Il problema non è scientifico come diceva Veltroni prima, perché quel lavoro di sintesi da parte degli scienziati e dei medici è già stato fatto, è stato fatto quest'estate, c'è un documento che mette insieme l'Istituto Superiore di Sanità, Ministero e tutto il resto e dice cosa bisogna fare nei vari scenari. Ora leggiamo oggi nel report dell'Istituto Superiore di Sanità che prima con i dati che si riferiscono all'Italia di prima dell'ultimo di PCM eravamo già vicini allo scenario 4 dei 4 ipotizzati che è quello dei lockdown regionali e il governo ha approvato uno scenario, ha approvato un provvedimento che era coerente con l'umore della gente in quel momento, con i dati che si vedevano giorno per giorno, non con quello che gli diceva il documento che loro stessi avevano elaborato, dovevano attuare provvedimenti molto più drastici. Se queste persone non hanno il coraggio politico di fare quello che è necessario, io mi metto dal punto di vista, non ne faccio questione veramente qui di partiti o altro, cioè bisogna fare delle cose in questo Paese, questo governo passa il tempo a spiegare perché, a giustificare gli errori commessi, che come dire, anche legittimi nella prima fase, però lo sapevamo che arrivava la seconda ondata, abbiamo scelto di fare delle cose sbagliate, adesso bisogna fare quelle giuste, se loro non le vogliono fare lasciano il posto a qualcun altro. Chiara Geloni, è un giudizio troppo severo questo di Stefano Feltri, anche perché sicuramente in questa seconda ondata il governo Conte gode meno della fiducia degli italiani e quindi è tutto molto più complicato e molto più difficile. Sei d'accordo con Feltri nel suo giudizio? Ma io non voglio diventare una tuttologa, non lo so, non credo che possa essere io a decidere se è giusto o sbagliato il lockdown. Noto però che siamo veramente uno strano paese, Lilli, perché noi siamo già dentro un lockdown soft, diciamo, da lunedì scorso ci sono degli orari di chiusura, degli esercizi pubblici dove si può mangiare, dei bar, dei teatri, dei cinema, una chiusura totale e noi fino a... adesso non parlo di Stefano Feltri che ha avuto sempre una posizione molto intransigente e molto pro lockdown, ma il nostro discorso pubblico è stato incentrato fino a due, tre giorni fa sulle critiche a quel provvedimento da parte di chi diceva non chiudete le palestre, oddio non chiudete i teatri, non fate questo, no? I ristoranti fino alle 10, perché fino alle 6, eccetera, eccetera. Da qualche giorno forse ci rendiamo conto che quel provvedimento nazionale di lockdown parziale che il governo italiano ha preso prima di quello tedesco e prima di quello francese che sono poi intervenuti durante questa settimana, forse non è stato un provvedimento così scollegato dalla realtà. Sì, ma Chiara, scusa, ti interrompo? Il mondo era già diverso. Ah, ecco, no, io poi do subito la parola a Feltri, di nuovo a Veltroni. Diciamo, il piccolo problema è che, come ha detto oggi lo stesso Istituto Superiore della Sanità, il virus sta galloppando e la situazione sta cambiando di ora in ora. Se per il secondo giorno consecutivo gli esperti ci dicono di muoverci il meno possibile, di non incontrare nessuno, insomma praticamente di fare un auto lockdown, è un po' l'impressione che il governo non stia decidendo... Cioè, Brusaferro oggi ha detto anche che non siamo ancora in condizione, come sappiamo perché ormai un po' questo virus lo conosciamo, non siamo ancora in condizione di valutare l'impatto delle nuove misure. Ma io non sto dicendo che non voglio il lockdown, sto dicendo che non è forse così vero che siamo così dentro una vicenda scollegata alla realtà e dentro un ritardo rispetto a tutti gli altri paesi europei. Non mi pare, osservo, non sono Feltri. Il nostro lavoro è fare comunicazione, quello dei medici è fare i medici. Brusaferro dice una cosa tecnicamente corretta, ma che dà un messaggio fuorviante. Non siamo in grado di valutare l'effetto delle nuove misure perché i dati che l'Istituto Superiore di Sanità analizza arrivano fino al 25 ottobre e l'ultimo di PCM è stato approvato o il 24 o il 25. No, scusami Stefano. Detto questo, no, anche perché le misure producono effetti dopo 15 giorni. Sì, ho capito che il report dell'Istituto Superiore di Sanità ti dice che con i dati che arrivano al 25 ottobre, quindi il giorno in cui il governo fa il PCM all'acqua di rose, con quei dati lì quasi tutte le regioni erano in condizione di dover fare un lockdown rapido per ridurre la velocità della pandemia. Il che significa che il DPCM, che non è un lockdown, è una misura, diciamo, leggera, è arrivato sicuramente troppo tardi, perché già con i dati che abbiamo adesso sappiamo che in quel momento l'Italia avrebbe avuto bisogno di lockdown regionali. E questo lo dicono i dati. E li possono fare le regioni, i lockdown regionali, li possono fare le regioni, se vogliono. Ho capito, ma capisci anche tu che politicamente, se c'hai un governo che ti dice che tu non puoi andare fuori a cena e che in contesto i governatori che prendono misure più drastiche la gente non capisce più niente. Walter Veltroni, la discussione che stiamo avendo anche qui questa sera in studio è la rappresentazione plastica di quello che comunque succede anche nel resto del paese, e anche della confusione spesso nell'opinione pubblica. Quindi il governo avrebbe il dovere di dare delle direttive molto chiare e non demandare alle regioni. Qualcuno ha detto che è uno scaricabarile, che Conte demanda alle regioni decisioni difficili e impopolari perché è più semplice così, però fatto sta che da più parti si dice che questo governo rimanda le decisioni importanti e intanto resta a guardare. E questo forse non ce lo possiamo proprio più permettere. Allora le chiedo, è ancora adeguato questo governo Conte 2 per gestire la seconda ondata epidemica oppure ci vorrebbe un rimpasto come pensano molti e lei per esempio auspica una maggiore condivisione con le opposizioni, ma anche lì come potrebbe essere possibile? Cosa si dovrebbe fare visto che Meloni e Salvini attaccano duramente tutti i giorni l'azione del governo? Partiamo da un dato se vogliamo parlare seriamente. Non c'è governo che sia riuscito a fronteggiare questo disastro di nessun tipo, di nessun segno in nessuna parte del mondo e nessuno può dire di aver capito tutto. Io ho davanti agli occhi le dichiarazioni fatte a maggio sia da esponenti politici e di governo sia da rappresentanti della comunità scientifica che dicevano che la seconda ondata non ci sarebbe stata. Quindi muoviamoci con il senso di responsabilità e anche i toni che è giusto avere in questo momento. Ci vuole un rimpasto? Io credo di no. In questo momento sinceramente mi pare che la cosa più ridicola che ci si può mettere a fare è aprire una crisi di governo nel pieno di questa emergenza, avere i partiti che si cominciano a discutere di come spartirsi i ministeri. Quindi sinceramente se possiamo evitare questa scena evitiamola. C'è un governo, questo governo va davanti, affronti questa emergenza, l'affronti con più determinazione di quella che ha mostrato nel corso dell'ultima fase e l'affronti in un clima il più possibile civile. Io ho solamente ripreso quello che ha detto il Presidente Mattarella, l'opposizione, mentre è giusto che il governo non deve telefonare cinque minuti prima di andare a fare una conferenza stampa per sentire il parere dell'opposizione perché così non si fa, allo stesso modo l'opposizione deve cambiare tono. Quando io ho visto ieri Salvini dire che il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Interni hanno la responsabilità morale di quello che è accaduto in Francia, cioè lì si superano dei limiti di civiltà che non devono essere superati. L'opposizione, le regioni, il governo, le forze politiche, lo devono agli italiani in questo momento essere all'altezza della situazione nella quale ci troviamo. Mi scusi se la interrompo, ma lei pensa davvero che improvvisamente questa opposizione possa diventare più civile o più collaborativa con il governo? Salvini nelle ultime ore ha chiesto le dimissioni nell'ordine della Ministra Lamorgese, poi Bonafede, Di Maio, di tutto il governo, anche la Meloni dice che questo governo deve andare a casa. È quello che ho appena detto, ma io penso che comunque l'attitudine di chi governa e che ha tra l'altro uno stato di emergenza da gestire, debba essere quello di coinvolgere l'opposizione. Se poi l'opposizione non vuole partecipare, non vuole dire la sua opinione, pagherà un prezzo per questo atteggiamento. Credo che gli italiani capiranno che in questo momento ci si attende che ciascuno dia una mano. Ma la cosa che certamente non credo sia opportuno fare in questo momento è aprire una crisi di governo. Io ho delle riserve su scelte che sono state fatte, su ritardi, errori, ma in questo momento il Paese deve fronteggiare questa battaglia e deve cercare il più possibile di vincerla senza dare lo spettacolo al quale assistiamo tutte le sere. Appunto, l'opposizione a chiedere dimissione, le regioni che vanno contro il governo, il governo che va contro il governo, è uno spettacolo che non è accettabile per lo stato d'animo degli italiani in questo momento. Veltroni, qual è la decisione che l'ha convinta di meno? Ma guardi, appunto, se uno prende il DPCM precedente a questo, evidentemente non ha assortito gli effetti dei quali parlavamo e anche questo ultimo ha dentro di sé delle contraddizioni. Il problema non è di lamentarsi perché si chiude questo o quello, il problema è di non vedere un disegno generale, no? Perché, diciamo, i musei, Dio solo sa quanto mi stanno a cuore, avendo contribuito a riaprirne tanti, come è giusto, sono aperti e non sono aperte altre strutture. Il problema è la razionalità. 15 giorni fa si è detto, ma le palestre prendiamo una settimana? Oppure perché abbiamo dovuto assistere a quella scena dei drive-in con le file di chilometri di gente che doveva fare il tampone? Perché la medicina di base che durante questa fase di mesi estivi si poteva rafforzare per frenare l'ospedalizzazione non è stata rafforzata? Detto questo, io so benissimo, e sono partito da qui, che non c'è nessun Paese che sia riuscito a fronteggiare queste emergenze e ci troviamo di fronte a qualcosa di inedito. Però vorrei che tutti quanti la smettessimo, uno, di dire come siamo stati bravi, perché quando ci sono i numeri che abbiamo di fronte a noi, anche se fosse vero, non bisogna dirlo. E due, che la smettessimo di dare lo spettacolo di litigi quotidiani e costanti, di cose parlamentari che si facevano nei tempi della Prima Repubblica quando tutto sembrava andare tranquillamente. Adesso siamo in un'emergenza drammatica e non è tempo per scherzare, non è tempo per dire tanti. Posso proporre anche a Veltroni, però allora eliminiamo anche dal tavolo l'argomento che nessun governo è riuscito a fare tutto bene. Perché se continuiamo a dire questa cosa, è una cosa che, come dire, e dici vabbè, è così, è fatalità. Il problema è che è fatalità, che ne muoiano 30.000, 40.000, 50.000, ma il numero dove si ferma l'asticella dipende dalle cose che facciamo. Sappiamo che si avviene una pandemia, sappiamo che ci saranno dei morti, sappiamo che è una tragedia, ma quanto grande dipende dalle cose che facciamo. Quindi eliminiamo, togliamo come siamo stati bravi e togliamo anche l'argomento che gli altri però hanno fatto peggio, c'è sempre qualcuno che fa peggio di noi, c'è sempre qualcuno che fa meglio. Vorrei che il dibattito in Italia in questo momento non dovrebbe più essere se il lockdown sì o il lockdown no, perché con i numeri che stiamo vedendo, il lockdown è chiaramente inevitabile, perché l'indice RT, quello che misura la velocità del contagio, che è calcolato solo sui sintomatici, quindi sottostima la pandemia, è intorno adesso quasi a 2, è a 1,7, 1,8. Con il lockdown precedente l'avevamo riportato a 0,5. È chiaro che dobbiamo andare in quella direzione. Ma questo non basta, perché questo ci fa solo guadagnare tempo. La cosa irresponsabile che ha detto Conte, di dire facciamo un po' i sacrifici così a Natale siamo tutti sereni, fa pensare alla gente che a Natale ci si trova con la famiglia a mangiare dalle mie parti i tortellini, a Natale tutti a tavola e poi si sta tutti insieme felici e sereni, magari col bacino. Non succederà. Quindi se noi facciamo il lockdown, come è inevitabile, dobbiamo sfruttare quel tempo che compriamo, è un tempo che compriamo a carissimo prezzo, perché il lockdown ha dei costi enormi, perché la politica faccia le cose giuste, cioè quelle che non ha fatto quest'estate, avere un sistema di tracciamento che funziona e poter cogliere i contagi quando succedono. L'Istituto Superiore di Sanità dice che questa cosa è completamente saltata. Non sapevo più a dove arrivano i contagi. Allora, se noi facciamo il lockdown, infliggiamo questa cosa e poi ci ritroviamo da capo, continuiamo con un ciclo così che si ripete eternamente finché non arriva il vaccino. Allora, questa cosa secondo me non è accettabile, ma da questo governo come da tutti gli altri. Walter Veltroni, aggiungo anche che in serata, ottenendo il plauso dei sindacati, Conte ha annunciato che lo stop ai licenziamenti verrà prorogato fino alla fine di marzo. Questo ci lascerebbe anche intendere, Veltroni, che è ancora lunga la strada verso un accenno di normalità anche nelle attività economiche. Io penso semplicemente che noi fino al vaccino ci dovremo abituare a convivere con questa cosa e che non potremo passare da tre mesi di lockdown e poi tre mesi di discoteche. Non potrà essere così. Dovremmo trovare il punto di equilibrio che consenta a questo Paese di non precipitare socialmente, cosa che sta avvenendo, e al tempo stesso però di fronteggiare questa pandemia. Quando io dico che negli altri Paesi non si è riuscito, non sto ovviamente facendo una sorta di giustificazione. Sto dicendo esattamente il contrario. Sto dicendo che è una sfida talmente complessa che quali che siano gli indirizzi degli altri Paesi, riformisti o populisti, trovare le soluzioni adeguate fin qui non è stato possibile a nessuno. Detto questo bisogna cercarle e bisogna cercarle avendo presente che ci sono due emergenze. Non una sola. C'è un'emergenza sanitaria che come tutti dicono giustamente è tutto sovrasta ma c'è una drammatica emergenza sociale che in questo momento riguarda milioni di persone che sentono che è messo in discussione tutto quello che si sono costruite nella vita. E se non si capisce questo, se non si ha la percezione di questo, non si è all'altezza di quello che sta accadendo nelle case degli italiani in questo momento. Allora la cassa integrazione, il sostegno alle imprese che chiudono, la cassa integrazione che arrivi però perché credo che tutti quanti noi conosciamo imprenditori che hanno dovuto anticipare la cassa integrazione che non è arrivata. gli interventi che sono stati previsti per la metà di novembre a ristorare come si dice i mancati incassi che sono stati prodotti dalla emergenza e poi l'utilizzazione dei fondi del MES che io penso siano necessari e poi le scelte sono tutte cose che chiamano in causa la capacità di decisione e la capacità di decisione di un governo che deve evidentemente essere nella condizione di decidere quello che i partiti possono fare in una democrazia è cambiare un governo o sostenere un governo quello che i partiti non possono fare in una situazione del genere è logorare tutti i giorni il governo che c'è ed è quello che purtroppo sta accadendo. Chiara Geloni è purtroppo quello che sta accadendo perché a mettere in discussione il Premier Conte sono naturalmente Renzi ma anche un pezzo del Partito Democratico qual è lo scopo politico di queste divisioni perché forse anche il politico più rissoso di opposizione o di governo può immaginarsi che l'opinione pubblica italiana in questo momento davvero non abbia né il tempo né l'energia né la voglia di assistere a dei litigi e a delle divisioni che sicuramente non rafforzano l'azione di niente e tu hai un giallista in studio e fai questa domanda a me io non so proprio quale sia il movente di questo tipo di atteggiamento non lo capisco non capisco come si possa pensare magari certo qualche partitino che deve lucrare su una rendita di posizione può farlo ma un grande partito come il Partito Democratico è un partito di dimensioni importanti anche come il movimento un gruppo parlamentare per lo meno di dimensioni importanti come il Movimento 5 Stelle in questo momento devono sostenere il governo come diceva Veltroni non perché non sia criticabile quello che fa il governo ma perché in politica si decide cosa fare in base alle possibilità che si hanno quindi se si ritiene di aprire una crisi di governo o di chiedere un rimpasto o di chiedere la testa di Conte o il tirannicidio come auspica il direttore di domani naturalmente sul tirannicidio poi magari vediamo ma è legittimo farlo se invece non si chiedono fare questo non è pensabile che i partiti che sostengono il governo un giorno chiedano il rimpasto e il giorno dopo lo passino a dire no il governo ci piace io oggi ho scritto anche qualche riga sull'episodio di ieri di Marcucci perché molti hanno detto che Marcucci prima la linea di Renzi no io penso che il PD sia troppo incerto nel sostenere questo governo in questo momento e rispetto al compito che ha davanti e quindi faccia filtrare un senso di frustrazione di malumore che in questo momento agli italiani sinceramente penso proprio non interessa e non faccia piacere il governo un po' ammaccato nel suo consenso ancora mi sembra l'entità la quale in questo momento gli italiani si possono rifidarsi il presidente della repubblica e il governo purtroppo in un momento in cui mi pare che gli enti locali non stiano dando prova della stessa tenuta e maturità allora Walter Veltroni prima di chiederle del suo nuovo giallo le chiederei una cosa rapida avrebbe un messaggio da lanciare al partito democratico visto che il partito che lei ha fondato e visto che il partito che al suo interno ha diciamo degli esponenti molto critici con questo governo un messaggio in questo momento così difficile il messaggio non solo al partito democratico ma un po' a tutti è quello di occuparsi in questo momento delle cose serie di fare in modo che la gente non sia affollata sui mezzi pubblici non stia uno sopra l'altro nei trasporti regionali che si trovi la misura per far convivere le imprese con questa pandemia bisogna occuparsi di cose serie non è non è tempo più per per quei giochini ai quali purtroppo la politica è tornata ad abituarci aveva smesso di farlo e purtroppo è tornata ad abituarci se è vero quello di cui stiamo parlando se è vero che siamo nella situazione che le cifre ci raccontano e quelle che purtroppo abbiamo di fronte a noi adesso è veramente il momento in cui le persone serie dovrebbero cercare di occuparsi della vita reale degli italiani senta Veltroni lo sfondo del nuovo libro il nuovo giallo che è da pochi giorni in libreria è la pandemia il titolo è Buon vino e il caso del bambino scomparso pubblicato da Marsiglio perché ha scelto la Roma della pandemia? ma perché era una Roma unica unica speravo che fosse unica spero che lo rimanga anche se purtroppo mi pare che andiamo verso quella direzione vede la differenza tra quel momento e questo momento è la differenza tra il tunnel e le sabbie mobili quando si entra in un tunnel si ha la sensazione che alla fine ci sia la luce e magari in quel momento era anche la luce dell'estate adesso si ha la sensazione di stare sulle sabbie mobili e quindi io ho cercato di raccontare questa Roma in transizione che esce dal lockdown e che si trova di nuovo nella condizione in cui le persone possono salutarsi e darsi una mano e forse nella realtà dobbiamo probabilmente ancora aspettare è vero vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché abbiamo accennato anche all'economia le conseguenze economiche oggi sembra arrivare qualche buona notizia da questo fronte ma in realtà non è proprio così guardate le ottime notizie giunte oggi dal fronte macroeconomico suonano beffarde perché fotografano una ripresa che purtroppo è destinata a interrompersi secondo i dati forniti da Eurostat nel complesso dell'area della moneta unica il terzo trimestre dell'anno ha visto una forte crescita del PIL con un più 12,7% rispetto ai tre mesi precedenti l'incremento più significativo è stato il 18,2% della Francia seguito da quelli di Spagna e Italia dove il PIL ha fatto un balzo del 16,1% circa il doppio che in Germania naturalmente resta negativo il saldo anno su anno che per la nostra economia è del 4,7% con la ripresa dei contagi e con i nuovi lockdown sembra ormai inevitabile un nuovo rallentamento dell'attività economica e dei consumi d'altra parte non ha suscitato entusiasmo sentimento che i giornali finanziari misurano in borsa neppure il più 33% del PIL degli Stati Uniti annunciato ieri e presentato da molti commentatori come l'argomento decisivo per spianare a Trump la strada della riconferma come spiega oggi il quotidiano Milano Finanza anche negli Stati Uniti gli investitori e si suppone anche i cittadini sono in realtà assai preoccupati per l'impatto che la seconda ondata della pandemia e i blocchi invernali avranno sulle economie già martoriate dalla prima ondata quanto al balzo del PIL dell'ultimo trimestre esso non maschera il fatto che rispetto allo stesso periodo del 2019 l'economia americana si è effettivamente contratta di quasi il 3% allora siamo in chiusura grazie Walter Veltroni ricordo il suo nuovo libro pubblicato da Marsiglio Buon vino è il caso del bambino scomparso è il suo nuovo giallo grazie Chiara Geloni grazie Stefano Feltri grazie spettatrici spettatori vi lascio a Diego Bianchi al suo propaganda live che avrà un ospite d'eccezione il vice presidente della commissione europea Franz Timmermans quindi restate con noi noi ci vediamo come sempre domani 8 e mezzo grazie grazie a tutti